La Procura della Repubblica di Palermo ha puntato la lente di ingrandimento sul caos piano giovani scoppiato in Sicilia. Il procuratore aggiunto, dottor Dino Petralia, ha aperto un fascicolo di inchiesta sugli affidamenti che l'amministrazione regionale ha fatto alle società coinvolte nel progetto. Intanto, come persone informate dei fatti, è stata convocata in procura anche l'assessore regionale alla formazione nell'Iscilabra. Sulla revoca del piano giovani in Sicilia, mercoledì scorso, si era espressa anche la Corte dei Conti che ha avviato un'indagine per presunto danno erariale. Al momento, sul fascicolo di inchiesta, aperto dall'aggiunto Petralia, non figura iscritto nessun nominativo. La società affidatare del servizio di gestione della piattaforma multimediale andata in tilt nei giorni del Click Day e la Electronic Technology Team di Genova, società a cui la regione avrebbe destinato circa 500 mila euro. Di circa 5 milioni di euro, invece, è il costo complessivo del compenso spettante a Italia Lavoro per l'elaborazione dei dati dei tirocinanti e l'assistenza ai centri regionali per l'impiego.